e che ha detto di raccogliere il suo samore? lei è Vanessa e lei è Greta e si è sammuciccio ma poi è Jessie che fa la stanza e si elimina tutto di nuovo tu ne vuoi aiutarmi come fare a pulire la stanza? per pulire la stanza tu la pulisci tu io ho una mazza ma è una bottiglia ma non è una mazza un pezzo ma Andy non resta seduto a guardare se lo notate il salamino sulla pizza è a fette quadrate quindi Jessie non avrà quel condimento Jane non è d'accordo il salamino deve tornare dove era così come la città di pizza e una volta fatto si svela il mefistofelico piano di Jane la pizza è rotonda quindi va tutto a lei che genio del male ma ha anche seguito le regole gli altri due restano a guardare soffrendo e odiando profondamente Jane e la sua ingordigia a mano bottiglia non fa male non fa male non è spaziale Andy prova a ripetere la tattica di Jane del round precedente ma viene fermato da un tecnicismo quella torta è rettangolare non quadrata potete non ci provare Andy ma lui ci prova come Jane distrupa della discussione ma sta scherzando semplicemente taglierà la forma che gli serve la torta al cioccolato è sempre magnifica non importa in che forma quindi alla fine sta picchiando Greta pure quando mi picchi basta mi sta picchiando con che lieve mi stiamo io in la stanza voglio andare di là no wow Jane si è preparata in anticipo guarda che bel pratico di cielo rotondo ha portato di mano shhh eh ragazzi non è l'ora che si è andata in un bello scherzetto spicchera spicchera preva facciamo una cosa impariamo allora questo video si preoccupate qua vedete un altro video ciao ciao